Da molto tempo coltivo il desiderio di dare vita ad una serie di opere in grado di gravitare attorno all'idea di contemplazione, in relazione all'esplorazione del microcosmo e del macrocosmo. Questo perché provo da sempre un forte interesse per la natura in ogni sua forma, quindi la natura dell'acqua, della vegetazione, ma anche la natura di una stella o la natura dell'universo. E una delle mie reazioni di fronte a tutto questo è un inevitabile atteggiamento contemplativo. Osservare a lungo e con intensità un elemento, molto spesso ignoto, meditare e alla fine abbandonarmi alla meraviglia. Penso inoltre che l'atto di contemplare rappresenti il desiderio e il fine più primitivo che spinge un artista a produrre un'opera, con l'intenzione implicita di stimolare nello spettatore lo stesso medesimo atteggiamento. Fermarsi, osservare e pensare. Pur avendo un approccio piuttosto scientifico a tutto ciò, è pur vero che l'atto della contemplazione è qualcosa di intimamente religioso. Quando ho visitato gli spazi della Cappella dei Notai, in cui è davvero difficile ignorare la forte tematica religiosa degli affreschi, ho semplicemente capito che probabilmente era l'occasione giusta per preparare la prima opera di questa serie. Con queste riflessioni ho realizzato un'opera site specific che si intitola Blue Traveler, un olio su tela in cui viene ritratto un astronauta in un luogo asettico e atemporale. Cerco sempre di lasciare allo sguardo una lettura molteplice dell'opera. Blue Traveler infatti crea un contrasto con le figure degli affreschi. Un uomo del futuro circondato da uomini di vecchie storie. Eppure, superato questo primo contrasto visivo, credo che emerga un dialogo profondo. Un dialogo che in questo caso può parlare di condizione umana, una condizione che è inevitabilmente legata alla natura e al cielo, alle leggi dell'universo, alla luce e all'oscurità.